Gianluca di Guida, partita sostanzialmente equilibrata, primo tempo pochissime occasioni, poi sotto 2-0 siete stati molto bravi a recuperare. Sì, noi venivamo da due sconfitte pesanti che ci avevano un po' fatto innervosire, infatti all'inizio quando siamo andati sotto avevamo un po' paura a giocare, loro erano veloci, il campo è veloce, però sul 2-0 noi ci credevamo ancora. Infatti quello abbiamo detto nello spogliatore, crediamoci perché la partita non è finita e la possiamo anche vincere. È stato un ottimo pareggio, veramente una partita bella fino alla fine, noi abbiamo tanti ragazzi giovani però ci stanno aiutando e i risultati arriveranno. Gino D'Amando, che dici, questo pareggio può star bene, 2-2 è giusto o no? No, per quello che io ho visto in campo no, sicuramente se erano un po' più calmi, c'era un po' più di pazienza, io penso che il risultato lo portavamo a casa tranquilli. Soltanto che hanno fatto il 2-1 e sul 2-1 si sono un po' scomposti e non c'è stato più quel gioco bello, brioso che c'è stato il primo tempo. Quell'occasione di Scarpetti all'ultimo, ancora grida vendetta. Quello sì, ma quel ragazzino del Gaeta è stato molto molto bravo a chiudere lo specchio della porta, soltanto che lui un attimo prima doveva tirare e sicuramente avrebbe fatto gol, avremmo portato la partita a casa, però queste purtroppo sono cose che succedono in questi campionati e vediamo un po', rimboccamoci le maniche e vediamo un po' per quello che succede sabato prossimo.